Da oggi Brindisi ha un nuovo polmone verde, inaugurato il parco urbano del Cillarese. Tra istituzioni di regione, province e comune, autorità religiose e militari, il parco si è presentato in tutto il suo splendore. Particolarmente suggestiva la cerimonia di consegne ai cittadini che nell'occasione hanno potuto raggiungere l'accesso all'entrata dell'area verde di via provinciale San Vito dopo una inedita passeggiata sul lungomare del seno di Ponente. I cittadini hanno potuto varcare la famosa porta Town de Revelle nella zona delle sciabiche, zona internetta poiché l'aria è in concessione alla marina militare. Dopo quattro passi sotto il castello Svevo e l'arrivo in via provinciale San Vito, l'entrata all'interno del parco, una breve cerimonia e il taglio del nastro, un po' di musica e il nuovo parco è a disposizione dei cittadini. Realizzato con i fondi e le autorizzazioni delle precedenti amministrazioni comunali e portata a termine dell'attuale governo cittadino, il parco è un'area verde che si estende per 23 ettari, si trova tra la diga del Cilarese e via provinciale San Vito ed è circoscritta dal canale e dal quartiere Minuta. Dotato di enormi parcheggi, fontane, aree di sosta, pista ciclabile e uno suggestivo laghetto che è collegato alle altre zone del parco con una serie di ponticelli in legno, è concepito come un punto di ritrovo importante per i cittadini che vogliono trascorrere all'aria aperta e lontano dalle strade il proprio tempo libero. Un'area che, a quanto detto dall'amministrazione comunale, è attualmente attrezzata solo per il 30% della sua estensione e per la quale si preannuncia un ampliamento con l'abbattimento della zona ex Saka in un prossimo futuro. San Luca, ci conviene tagliare di qua, perché sennò dobbiamo fare un giro incredibile. San Luca, ci prendiamo da qua, ci prendiamo da vicino a 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 vic Grazie a tutti.